Bondi! Sapete che giorno è oggi? Oggi è il 7 agosto E faccio esattamente un anno su YouTube Diciamo che questo video qua è abbastanza improvvisato Siccome mi sono svegliato e nella notte sul telefono avevo Hai fatto un anno! Ottimo! Questo per me è il 47esimo video Sono riuscito a raggiungere 700 iscritti E mi sono divertito veramente un sacco Io non ho mai fatto video Non sono un YouTuber Non sono niente fondamentalmente Mi diverto a fare video Ho conosciuto un sacco di persone Ma è stato anche abbastanza duro mantenere questo ritmo Di idee ne ho ancora tante E spero veramente di continuare a lungo E poter continuare questo mio percorso Adesso mi hanno messo in ferie E quindi il problema è che non mi hanno dato preavviso Quindi da un giorno all'altro Perché sono abbastanza destabilizzato Siccome non ho avuto modo di organizzarmi per fare video E in fretta e furio sto cercando di fare qualcosa Quindi probabilmente per un mesetto io sparirò su YouTube Perché in questa settimana che ho di ferie Voglio fare tantissime cose E monterò quando finisco tutto Avevo voglia di fare quest'anno un'avventura veramente fantastica A prever mio Il problema è che serviva tempo per organizzare E probabilmente non credo di riuscire a farla quest'anno A questo punto Però fare in modo di portare altre cose In quest'anno qua mi sono divertito un casino Ho fatto video di studio Ho fatto video di dove costruivo cose Ho fatto video di avventura Ho fatto video di quello che facevo Ho fatto video di cucina Ho fatto video di quel che mi piaceva fare Ho fatto video inutili Il mio canale era nato come un canale di moto E' durato due video Poi dopo ho fatto la moto E' stato un video abbastanza improvvisato E vi voglio bene E vi voglio bene